E-Call diventa obbligatorio su tutti i nuovi veicoli. Che cos'è e come funziona? Allora, l'E-Call è un sistema elettronico che attraverso dei sensori e degli algoritmi software consente di lanciare automaticamente una chiamata di emergenza al 112. Una volta lanciata la chiamata, il sistema attiva una comunicazione voce e inoltre, cosa molto importante, invia i dati sia del tipo di veicolo che dell'esatta geolocalizzazione del veicolo. È da notare inoltre che è possibile fare una chiamata manuale, quindi anche senza avere un urto del veicolo, ma è anche possibile interrompere un'eventuale chiamata automatica, quindi è possibile comunque interrompere la chiamata d'emergenza. È veramente utile e efficace? Ora sì, il sistema è particolarmente utile e efficace, soprattutto nel caso in cui il veicolo è in un luogo isolato e il passeggero e il conducente hanno perso conoscenza, quindi non sono in grado di effettuare autonomamente una chiamata con il cellulare. È però interessante notare che è molto utile anche in contesti in cui l'incidente non avviene in zone isolate, essenzialmente per due motivi. Il primo è che comunque normalmente appena dopo l'incidente le persone di intorno sono sotto shock e quindi tipicamente passano alcuni minuti prima che venga effettuata la chiamata. Secondariamente perché il sistema manda un'esatta geolocalizzazione del veicolo e quindi consente un immediato rintracciamento della posizione dell'incidente. Da ultimo è interessante notare che è molto utile soprattutto per motocicli nei quali c'è la separazione fra il conducente e il veicolo e il veicolo stesso, anche se in questo caso è particolarmente complicato elaborare l'algoritmo che consente di stimare correttamente il fatto che l'incidente sia avvenuto. Perché nel caso delle motociclette non c'è le airbag, che tipicamente è il tipo di sensore utilizzato nel caso degli autoveicoli, ma è più difficile riconoscere la differenza fra una normale piega della motocicletta e una caduta, anche senza che ci sia in presenza di un urto particolarmente violento. Grazie a tutti.